Funziona? Funziona? Si sente? Buonasera a tutti e a tutte. Grazie per essere qui oggi pomeriggio ad ascoltare l'interessante relazione della professoressa Benigni. Elisabetta Benigni insegna letteratura araba presso l'Università degli Studi di Torino. Ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca presso la Sapienza di Roma con una tesi sulla letteratura dal carcere nell'Egitto moderno e contemporaneo. Ha lavorato presso l'Università di Lecce di Macerata in progetti di ricerca a Berlino e a Erfurt in Germania. Nel 2015 è stata Fellow dell'Italian Academy alla Columbia University di New York. Le sue ricerche vertono attorno alla circolazione dei testi e delle idee nel Mediterraneo in epoca moderna e contemporanea. L'intervento di oggi vuole riflettere sul significato della scrittura dalla condizione di detenzione nel mondo arabo, in Egitto in particolare, e su come le pratiche di censura o la mancata censura hanno caratterizzato il controllo del mercato editoriale e ancora oggi condizionano fortemente l'espressione scritta. L'intervento parte da un breve excursus sulla storia della censura e della circolazione dei libri nel mondo arabo dal periodo medievale fino alla modernità. In seguito l'attenzione sarà portata sul caso dell'Egitto e verranno presentati testi scritti da autori e autrici detenuti dagli anni 40 del novecento in poi. Si discuteranno i testi di detenuti e detenute appartenenti a diverse correnti politiche e si vedrà come il concetto di libertà abbia preso forma proprio attraverso la scrittura durante la detenzione politica. Lascio la parola alla dottoressa Benigni. Grazie. Grazie per questa presentazione, grazie a voi per essere qui questa sera ad ascoltare questo più vicino. Mi sentite così? Ho questa caratteristica di avere la voce molto bassa quindi parlo così? Meglio? Perfetto. Grazie di essere qui questa sera, grazie di essere qui ad ascoltare questo intervento. Io spero di non essere tanto lunga perché mi piacerebbe ovviamente lasciare spazio anche alle vostre osservazioni su un tema che immagino possa interessare alcuni di voi se sono qui e che probabilmente non molti di voi conoscono, perlomeno non hanno letto questi testi, quindi sarei molto lieta di ascoltare anche le vostre osservazioni. In parte rispetto all'abstract che avevo inviato il tema è un pochino cambiato, cioè il tema è quello della letteratura della detenzione, vedrete che i casi studio sono un pochino diversi, sono un pochino più concentrati sulla letteratura femminile, ma inizio in generale col parlare del rapporto tra la scrittura e la libertà che è un po' il tema di questo convegno ed è un tema che è un tema dominante nella letteratura araba di tutto il ventesimo secolo. Lo è tutt'oggi, lo è in particolare dopo le rivoluzioni, ma direi che per tutto il novecento se c'è un tema caro agli intellettuali arabi è proprio quello del rapporto fra la scrittura e la libertà. D'altra parte come sapete quando parliamo di mondo arabo parliamo di paesi che hanno vissuto la colonizzazione e poi processi di decolonizzazione che hanno portato il più delle volte all'instaurarsi di regimi militari. Quindi possiamo dire che in sostanza dalla fine dell'ottocento per tutto il corso del novecento sono paesi in cui lo spazio proprio di espressione, di critica al potere soprattutto, ma anche di libertà individuale, di espressione di un'idea, è sempre stato uno spazio di negoziazione molto complesso, molto difficile, talvolta come vedremo, anzi molto spesso, frutto che darà esito avere proprie repressioni. Il concetto di libertà è un concetto che nel mondo arabo, come in tanti contesti postcoloniali, inizia a svilupparsi soprattutto nel corso dell'ottocento. D'altra parte in Europa stessa nel corso dell'ottocento c'è un dibattito e una riflessione, una ricostruzione e un'enfasi particolare su quello che è il concetto di libertà. In quegli anni il mondo arabo, in situazioni diverse, però in generale, in tutto il mondo arabo c'è l'impatto con le potenze europee, c'è l'impatto con le potenze coloniali e c'è l'impatto anche della ricezione di un vocabolario politico, di un vocabolario della modernità, per usare un'espressione di Cosellec, e il concetto di libertà è al centro di questo vocabolario. Un concetto di libertà che c'era nel mondo arabo, ma non aveva uno spazio così evidente nella sfera politica. La parola libertà in arabo è orria. Adesso se avete seguito un pochino le notizie a partire dalle rivoluzioni è un tema di cui si dibatte tantissimo. In realtà prima dell'Ottocento era un concetto molto peculiare o all'ambito della persona, della riflessione sulla persona, era un concetto legato alla nobiltà. Chi è nobile, chi è nabil, è anche un uomo libero. Quindi era un concetto molto ristretto. E poi era un concetto teologico, era un concetto che veniva utilizzato nella riflessione teologica del rapporto fra l'uomo e Dio. Quindi non era un concetto che aveva un ampio spazio nel dibattito politico. Nel corso dell'Ottocento, con la ricezione dei testi dell'illuminismo europeo, con uno sviluppo anche locale, perché ovviamente una ricezione non è mai una ricezione solo passiva, ma è appunto anche una ricreazione di nuovi modelli di vocabolario e nuovi modelli di pensiero, questo concetto di libertà e dello spazio della libertà politica diventa centrale. E piano piano prende forma anche la figura dell'intellettuale, l'intellettuale moderno, quello che conosciamo anche noi in Occidente. E questo intellettuale soprattutto nel mondo arabo ha contatto appunto con l'esperienza del colonialismo e poi appunto dei regimi militari che si sono instaurati in epoca postcoloniale e diventa un po' il portavoce di questa libertà. Dunque il concetto di letteratura in generale nel mondo arabo è sempre molto legato al concetto dell'impegno politico, sino appunto a partire dal Novecento, fino all'Ottocento, nel corso del Novecento, è sempre legato appunto a quest'idea che l'intellettuale si fa portavoce di una letteratura impegnata e c'è molto forte quest'idea che la letteratura è uno spazio di rivendicazione di libertà di opinione, di libertà di scrittura. Ad esempio, per darvi degli esempi in generale nel mondo arabo, alla fine degli anni Cinquanta nasce in Libano una rivista che ha la copertina che è sulla vostra sinistra che si chiama Al-Adab, fondata da questo intellettuale Sohail Idris che aveva studiato a Parigi e che importa un po' l'ideale di Sartre della letteratura engagée e si crea proprio il concetto di Adab al-Iltisame, letteratura impegnata. Il-Iltisame vuol dire proprio impegno, engagement. Quindi inizia proprio a dibattersi sulle riviste quest'idea che la letteratura deve avere un impegno molto forte nel sociale. Negli stessi anni, a partire dagli anni Cinquanta, soprattutto dopo la guerra del Quarantotto in Palestina, la letteratura diventa Adab al-Muqawama, la letteratura della resistenza. Quindi non esiste letteratura senza un discorso di resistenza al potere, non esiste una letteratura senza un engagement politico. E legato a questo, a quest'idea di impegno, a quest'idea di ricerca di uno spazio di libertà, cosa c'è intorno, dietro, dentro a tutto questo? C'è questo costante sentimento di sentire di vivere all'interno di una prigione, di sentirsi imprigionati all'interno di questo sistema politico in cui non c'è appunto spazio di emancipazione, non c'è spazio di espressione. In un racconto del 69, Gassan Canafani, un racconto molto famoso, la madre di Saad, introdotto anche in italiano, Gassan Canafani fa parlare un personaggio e descrive la vita in generale in Palestina come una grande prigione. Non ti rendi conto che viviamo in prigione? Cosa facciamo nel nostro campo oltre che camminare all'interno di questa strana prigione? Le prigioni sono di tanti tipi, il campo è una prigione, la tua casa è una prigione, il giornale è una prigione, la radio è una prigione, la nostra vita è una prigione. E se questo vale, ovviamente in particolar modo per la Palestina, vale in generale, seppur con i dovuti cambiamenti per tanti paesi arabi. Quindi c'è una ricerca di libertà, c'è un generale senso di limitazione di questa libertà. E poi c'è la prigione vera, non la prigione come sensazione, non la prigione come stato dell'animo o condizione politica più in generale, ma c'è la prigione che gli intellettuali esperiscono in prima persona ed è una cosa assolutamente comune nel mondo arabo. Infatti il tema appunto di questa serata è proprio portarvi delle testimonianze di questi autori imprigionati, in particolare io mi sono soffermata sul caso dell'Egitto, in particolare lo vedrete, oggi vi porto delle testimonianze di donne imprigionate ma appunto è una condizione comune a tanti paesi arabi. Imprigionare un intellettuale molto spesso vuol dire dare adito però a un esito inevitabile che è immettere nella scrittura o nelle idee o nella produzione successiva di questo intellettuale questa esperienza, questa esperienza che molto spesso segna molto profondamente l'intellettuale e che viene poi elaborata. in forme diverse. Il romanziere e autore teatrale Ibrahim Samoyl Siriano in un'intervista dice scrivere è come estrarre petrolio dal terreno e poi purificarlo. L'esperienza della prigione è impressa nella mia anima e scorre come linfa in tutto ciò che scrivo. Quindi questa esperienza della prigione un po' in tutto il mondo arabo ritorna come questo filo rosso, non solo appunto una prigione collettiva, una prigione degli stati in cui si vive ma anche appunto l'esperienza individuale della prigione che segna appunto come ci dice Ibrahim Samoyl, segna tutta e rimane impressa in tutto ciò che scrivo. In Egitto c'è qualcosa di più ed è per questo che oggi vi parlo dell'Egitto. Non c'è solo il fatto storico che appunto molti intellettuali vengono imprigionati ma c'è una tale frequenza e una tale intensità e una tale vastità, adesso mi spiegherò meglio di questi arresti, che questa esperienza del carcere diventa quello che io ho definito un vero e proprio genere letterario. In arabo si parla di adab al sujun, letteratura dalle carceri e quando si parla di questa letteratura dall'Egitto si parla di un vero e proprio corpus di testi così ampio e così variegato che la stessa critica letteraria è cosciente di questo fenomeno, cioè c'è un dibattito su questo genere letterario che nasce in particolare a partire appunto dagli anni 50 e in realtà si stende fino ai nostri giorni, adesso alla fine farò un cenno anche a quello che succede oggi, quello che è successo dopo le rivoluzioni, ma che appunto diventa particolarmente intenso a partire dagli anni 50. Quali sono le condizioni storiche che portano a questo? C'è appunto, quando parliamo dell'Egitto a partire dagli anni 50 c'è la transizione, c'è la fine della monarchia, quindi la fine anche del controllo britannico sul territorio, gli intellettuali pensano che questo sia appunto di fatto l'inizio di un periodo anche di liberazione, cioè c'è un'idea appunto di emancipazione. Nel 1952 c'è la famosa rivoluzione degli ufficiali liberi che porta al potere un colonnello, Abdel Nasser, conosciuto in occidente con il nome di Nasser o Nasser. Abdel Nasser ha tra le sue tante caratteristiche della sua politica a livello interno ha avuto la caratteristica di essere stato un feroce persecutore di qualsiasi forma di dissidenza politica. Attraverso delle ondate di arresti molto mirate, che erano o brevi nel caso di alcune tipologie di intellettuali, oppure molto più lunghe nel caso di altre tipologie di intellettuali, ma comunque sempre mirate a mettere a tacere qualsiasi forma di dissidenza. A seguì, negli anni 70, il successore di Abdel Nasser è il presidente Anwar Sadat, anche egli appunto per nulla clemente, anzi forse per molti aspetti peggiore rispetto al suo predecessore nel trattamento di quelle che erano ritenute possibili o anche perlomeno sospette dissidenze politiche. Quindi abbiamo appunto un trentennio di continui imprigionamenti che innanzitutto appunto hanno delle caratteristiche peculiari, creano questo tipo di letteratura, quindi rappresentano un caso studio interessante in sé, rappresentano anche un po' i prodromi, il pregresso di quello che viviamo anche oggi. Quindi è un caso studio interessante perché un po' getta le basi di quello che in Egitto, in altri paesi arabi, ma in particolare in Egitto, vediamo anche oggi. Cosa succede in queste carceri in Egitto in questi anni? Sono delle carceri interessanti, ovviamente uso questo termine con tutte le virgolettature possibili, perché sono dei piccoli microcosmi della società egiziana. Perché cosa succede? Che questi presidenti mettono in carcere tutti i tipi di opposizioni politiche, quindi nelle stesse carceri vivono negli stessi anni gli comunisti, i fratelli musulmani, chi sospetto di una simpatia islamista, chi sospetto di una simpatia socialista però un po' troppo a sinistra, le prime femministe, che sono quelle di cui poi vi leggerò un po' di più i testi oggi, un po' tutto lo spettro della società civile e della società giovane, perché poi appunto chi faceva politica in quegli anni erano i giovani di allora, oggi sono gli intellettuali diciamo più di una certa età. Quindi queste carceri diventano dei piccoli laboratori, se vogliamo, anche di pensiero, di scrittura, un momento d'incontro tra le classi, che era una cosa assolutamente difficile da ottenere, soprattutto in Egitto, al di fuori delle carceri, quindi sono dei microcosmi della società anche però molto concentrati, anche dei laboratori unici appunto di pensiero e di scrittura. Già nei primi anni Sessanta un famoso storico marxista, Noir Abdal-Malek, scriveva appunto un libro dal titolo, io vi ho messo la traduzione italiana perché l'ho trovata, mi sembrava interessante che Lenaudi già negli anni Sessanta traduceva, Goffredo Fofi traduceva questo libro che è uscito in francese perché in arabo sarebbe stato impossibile averlo, Egypte Sette Militaire, secondo me appunto indice di un'Italia interessante, che guardava negli anni Sessanta secondo me in maniera assolutamente aperta, adesso sarebbe forse strano appunto per Lenaudi pubblicare uno studio appunto di storia sull'Egitto contemporaneo di questo genere. E già appunto Anwar Abdal-Malek da un background marxista, quindi appunto inizialmente che appoggiava anche la decolonizzazione fatta dagli ufficiali liberi, però immediatamente dice no, qui le cose non possono funzionare, qui ci troviamo davanti a un'impostazione appunto politica, un'impostazione dello Stato in cui sostanzialmente l'esercito controlla qualsiasi forma di pensiero, qualsiasi forma di opposizione e quindi è impossibile disinnescare appunto questo tipo di controllo sulla società. Negli anni Ottanta lo storico Salah Isa scrive il mondo arabo è una grande prigione che contiene ogni tipo di corrente e di opinione. I paesi arabi hanno aperto le porte delle prigioni contemporanee e per lunghi anni a comunisti, fratelli musulmani, nazionalisti, radicali, liberali, filoimperialisti e antiimperialisti, quindi delle prigioni che come scrive un intellettuale di cui vi parlerò tra poco, Safinaz Khazem, sono delle rappresentazioni in miniatura della società egiziana, una definizione che secondo me calza perfettamente. E dunque dentro queste micro società appunto l'esito di questi arresti e della ricreazione di queste micro società è il nascere di una vera e propria letteratura dal carcere che appunto si contraddistingue per essere innanzitutto abbondantissima, per avere un suo mercato editoriale, quindi o dei canali non propriamente ufficiali o anche delle case editrici più o meno ufficiali spesso spostate al di fuori dell'Egitto, ad esempio a un corpus. E poi, questo è un aspetto su cui appunto magari tornerò più volte, sono testi, e questo secondo me è l'aspetto più interessante, sono testi che si autocitano perché i prigionieri si conoscevano tra di loro, quindi è un corpus anche autocosciente di essere tale, quindi questo mi sembra un aspetto particolarmente interessante. Ovviamente è un tipo di scrittura particolare, è un tipo di scrittura forse poco bellettristico mi verrebbe da dire, poco avvezzo a intrattenere sicuramente, è un tipo di scrittura estremamente ripetitivo, anzi che quasi gioca sulla ripetitività di altri libri, sul citare altri libri e sul ripetersi. E devo ammettere che quando per la prima volta appunto mi sono incontrata con questo corpus letterario, mi sono scontrata di fatto, perché il primo interesse per me verso questo tipo di produzione nasceva ovviamente da quei pochi romanzi tradotti in Occidente che venivano da quegli intellettuali che l'avevano elaborata questa esperienza in senso magari più artistico, più letterario. E poi quando mi sono messa lì in Egitto per anni a ricercare tutti questi testi uscivano fuori questi diari tremendi, tremendi ovviamente nella crudezza ma anche tremendi nella ripetitività. E poi però appunto, come dire, ho dato un senso a questo, si può dare un senso a questo tipo di scrittura soltanto guardandone appunto la collettività della produzione, cioè soltanto guardando a questa letteratura come un corpus, no? Che vuole essere così, vuole essere ripetitivo, vuole testimoniare qualcosa. L'interesse non è portare semplicemente o quasi mai un prodotto semplicemente artistico ma portare una testimonianza. In questo mi è stato molto utile anche la lettura comparata di un libro molto famoso degli anni 70 di questo Bruce Franklin che era un accademico, anche un attivista in realtà, delle Black Panthers. Infatti fu poi, insomma, ebbe anche molti problemi all'interno dell'Università di Stanford dove insegnava e Bruce Franklin dedica un libro agli scrittori americani dalle carceri, soprattutto ovviamente agli scrittori neri, comunque alla produzione dall'interno delle carceri. e scrive a un certo punto una cosa secondo me molto interessante, cioè che è un po' il nucleo della sua analisi letteraria di questi scritti delle prigioni americane e dice in poche parole, no? Quando, se il criterio dominante, lui dice un campus, intende appunto nell'accademia, nel mondo accademico americano, ma un po' dappertutto, è quello dell'essere unici, no? originali, cioè un testo è bello se ha una sua originalità, una sua... esce fuori, no? Dalla massa degli altri testi. Quindi non c'è voglia di unicità, no? Non c'è voglia di straordinarietà. Ma anzi, io devo farti vedere che io sono come tutti gli altri, io rappresento il prigioniero medio, io rappresento l'uomo medio, o la donna media, come vedremo poi tra poco, perché poi vi volevo appunto leggere più voci femminili, che sono imprigionate. E quindi per rappresentare questa medietà, io devo rifarmi a tutto quello che gli altri hanno scritto, devo in un certo qual senso quasi copiarlo e devo riportarvi, no? Di nuovo questa ondata di testimonianze che è quello che voi vi aspettate da me, no? Perché poi ovviamente implicitamente c'è anche un'aspettativa del lettore nel voler ricostruire questo archivio storico. Ora usciamo dall'America, rientriamo in Egitto e proviamo a immaginarci le condizioni di arresto di queste persone. Io qui vi ho messo una serie di date, appunto appositamente ne ho messe tante senza specificarle, ma solo per farvi vedere alcune tra le ondate più ricorrenti dove, cioè di queste ondate ricorrenti dove il maggior numero di questi intellettuali furono, degli intellettuali che ho studiato sono state imprigionate. Quindi è una prima ondata che predata la rivoluzione degli ufficiali liberi, quindi sono quelli che protestarono contro la monarchia britannica, 46-48. Poi c'è un momento di pausa, 54-56, quindi appena dopo l'ascesa al potere di Abdel Nasser abbiamo due anni di ondate assolutamente costanti contro gli intellettuali, idem nel 64 e nel 67. In questi primi 15 anni in realtà la caratteristica degli arresti è di arrestare persone che però spesso facevano parte addirittura dello stesso entourage ideologico del presidente, perché erano persone magari socialiste che erano sospettate di avere tendenze un po' più marxiste, però poi spesso erano arresti magari brevi, ripetuti e poi magari queste persone venivano reintegrate all'interno anche dell'apparato del potere, quindi non erano arresti in netta separazione rispetto al potere. Sì, gli islamisti sì, gli islamisti, i fratelli musulmani, i gruppi religiosi vengono costantemente arrestati anche per lunghi periodi e anche torturati. Dagli anni 70 direi che invece tortura, arresto lungo e totale scollamento tra l'intellettuale e il potere, che poi è quello che ci portiamo dietro ancora oggi, diventa una caratteristica. soprattutto le giovani generazioni, gli intellettuali e i giovani in realtà, che talvolta non sono nemmeno intellettuali, diventano intellettuali in carcere, cioè sono semplicemente giovani che si trovano magari a frequentare una classe di letteratura all'Università del Cairo e quindi vengono poi inglobati in un sospetto di proteste, in un sospetto di essere marxisti, in un sospetto di essere anarchici, però insomma c'è una totale paranoia, la paranoia cresce soprattutto durante appunto il governo di Sadat e quindi c'è veramente un totale scollamento, infatti molti intellettuali poi sceglieranno anche la via dell'esilio, quelli che poi riescono a uscire da quelle carceri. Come si descrive? Questo per quanto riguarda le ondate, ciò non toglie che poi ci sono gli arresti individuali, cioè molto spesso i servizi segreti arrivano a casa, questa è una descrizione tipica di questi diari o di questi memoriali, i servizi segreti arrivano a casa e arrestano, arrestano senza un'accusa specifica, c'è un'attesa di processi che può durare da mesi a anni, quindi c'è l'ondata di arresto e poi c'è l'arresto singolo. Come descrivono queste prigioni, questi prigionieri? Innanzitutto le descrivono come se fossero la nazione stessa, c'è questa giornalista e autrice Farid Arnaqqash che scrive appunto un libro che si chiama Sijnal Watan, che significa proprio la prigione, la patria, e dice non è per dipingere uno splendente ritratto di eroismo, di me stesso, di chiunque altro che presento questo libro, è divenuto un fatto ordinario che la prigione apra ogni stagione le proprie porte a centinaia di intellettuali e lavoratori coinvolti nei problemi più urgenti del proprio paese. Talmente ordinario che è strano per chiunque della mia generazione che si è occupato di politica aver potuto evitare la prigione. La prigione è divenuta parte integrante della lotta nazionale. Questo per quanto riguarda la similitudine con l'Egitto, quindi prigione e Egitto sono un po' la stessa cosa, quello che c'è dentro c'è fuori. E poi c'è l'urgenza testimoniale, qui vi ho messo un pezzo da questo Kamal Faramawi che inizia appunto il suo diario dicendo rimasi immerso a lungo nei miei pensieri, come se avessi rimosso quel che era accaduto da quei giorni dell'agosto 1965. Poi ho compreso che presentare questa parte di storia del paese pur se attraverso un semplice diario e da una specifica angolazione era necessario per mantenere viva la memoria. Così ho ferrato la pena e ho iniziato a scrivere, per mettere il lettore davanti a un'immagine quanto più possibile vicina alla verità di quel periodo, sebbene si tratti di una mia verità. E poi c'è l'idea del carcere, e questo lo vediamo fra poco tornare tantissimo nelle memorie delle femministe, c'è il carcere che però a un tratto diventa anche uno spazio di formazione. Perché? Perché spesso è all'interno del carcere che si acquisisce una formazione politica, e all'interno del carcere che attraverso altri prigionieri detenuti si leggono determinati libri, e all'interno del carcere che spesso appunto dei intellettuali, soprattutto quelli più giovani, che avevano appena una coscienza politica o l'avevano appena accennata, di fatto si politicizzano. Sunal Ibrahim, autore estremamente importante nel panorama egiziano contemporaneo, romanziere lui in realtà, scrive, il carcere è stato la mia università, lì ho conosciuto la morte e la disperazione, ma ho potuto osservare anche alcuni straordinari aspetti dell'uomo, imparando molto sul suo mondo interiore, e sulle molteplici sfaccettature dell'esistenza. Nella detenzione ho avuto modo di riflettere, e dedicarmi ad approfondire lo studio di campi eterogeni, e all'interno del carcere ho deciso che sarei divenuto uno scrittore. Poi, appunto, d'altra parte, nelle carceri, come è noto la ristrettezza dello spazio, è tanto piccola quanto invece si allarga il tempo, e quindi c'è questa disposizione di tempo molto ampia, quindi laddove questi detenuti riescono a trafugare dei libri, si organizzano di fatto dei gruppi di studio, c'è la possibilità appunto di leggere, di informarsi, di imparare. Quindi queste piccole università che venivano create all'interno di questi campus. Che tipo di testi sono? Ovviamente sono testi, pre nomina il modello del diario, in arabo si dice mozakirat, che sono i memoriali. Quasi tutti dichiarano di essere pubblicati, scusate, di essere scritti all'interno delle carceri, non tutti di fatto lo sono, però c'è sempre quantomeno l'idea di dichiarare che un nucleo è stato scritto all'interno delle carceri. In alcuni casi sì, e questo si capisce dalla scrittura, dall'estrema frammentarietà, dal fatto di nascondere a volte alcuni atteggiamenti, soprattutto molte cose legate alla sfera del privato, quindi in alcuni casi sono testi che effettivamente sono stati scritti all'interno delle carceri, e in altri casi sono testi appunto rielaborati successivamente. Poi c'è l'autobiografia, che vedremo appunto essere un po' il genere anche che le donne prediligono nella scrittura carceraria, che è in realtà una forma diaristica che però non si concentra soltanto sul momento carcerario, ma che utilizza un po' il carcere come il centro, non ha per raccontare la propria vita, quindi l'esperienza carceraria come il nucleo della propria esperienza autobiografica. E poi c'è il romanzo, che ovviamente è la scelta che risente più del décalage temporale, ovviamente rispetto all'esperienza della detenzione, quindi è la scelta di elaborazione letteraria più estrema e spesso appunto più distante dai fatti narrati. Ma è comunque una scelta testimoniale anche quella, elaborare un romanzo appunto, spesso sono romanzi di stampo autobiografico appunto, io ho analizzato autrici e autori che avevano vissuto l'esperienza della detenzione, quindi anche quando si sceglie di scrivere un romanzo anni dopo la liberazione c'è comunque il proprio vissuto carcerario. Io non mi sono occupata, già non mi occupo qui e non vi apro invece il capitolo della poesia, che è molto interessante, ma è un'altra storia nel senso che va per altri circuiti, la poesia dal carcere soprattutto in Egitto ma anche in Siria in realtà in Palestina è spesso una poesia che viene tramandata realmente proprio perché l'oralità è quello che assicura la possibilità di superare la censura, quindi c'è tutta una circolazione appunto di canti e di poesie, in che caso veramente diventano patrimonio della collettività, cioè come se questa esperienza di collettivizzazione della scrittura, che qui viene abbozzata nella poesia veramente ha il suo massimo livello di espressione. In questo caso però ovviamente sono testi che circolano completamente slegati dagli autori. in ogni caso sono testi che, come vi dicevo all'inizio, sono testi che chiaramente si rifanno, anche questi in prosa, si rifanno a un patrimonio collettivo, si rifanno all'idea della prigione come un'esperienza collettiva, un'esperienza formativa. In particolare appunto quelli che vi presento adesso in questa seconda parte dell'intervento sono dei testi scritti da donne. Ho scelto le donne perché nel mare magnum di queste testimonianze così variegate secondo me le donne rappresentavano molto bene sia la varietà in realtà delle voci perché appunto all'interno delle testimonianze femminili ci sono donne di varie estrazioni e di varie appartenenze politiche quindi è un microcosmo all'interno del microcosmo rispecchiano bene la varietà delle prigioniere cioè dei prigionieri, in questo caso le prigioniere poi perché gran parte del canone ci sono due canoni di scrittura forti nell'Egitto moderno e contemporaneo che sono nati nelle carceri uno è la letteratura della militanza islamista perché tutta viene praticamente scritta in carcere perché stanno sempre in carcere sostanzialmente e l'altro è la letteratura femminista cioè il grande canone della letteratura femminista in Egitto è stato scritto in carcere risante tantissimo dell'esperienza della detenzione le donne di cui vi parlerò adesso sono in gran parte le donne che hanno creato la storia del femminismo in Egitto e sono tutte donne imprigionate in particolare, questo mi sembrava interessante appunto ancora più ancora più interessante come microcaso studio all'interno di questo corpus di testi le donne di cui vi parlerò sono tutte donne che hanno vissuto la prigione insieme quindi che danno sguardi diversi su uno stesso luogo perché sono tutte state imprigionate quasi tutte sono state imprigionate in realtà in varie ondate perché come tutte le attiviste politiche insomma mica si va una volta sola in carcere ma ci si va almeno 4-5 volte ma tutte vivono il carcere e uno specifico carcere che è questo qui al Qanater al Qairia che è un carcere sul delta del Nilo quindi nel nord dell'Egitto un carcere femminile una prigione femminile tuttora esistente proprio come prigione femminile e tutte la vivono insieme nell'81 perché nell'81 ci sono queste manifestazioni di massa contro gli accordi di Camp David il presidente Sadat ha firmato segretamente gli accordi di Camp David questo viene vissuto da tutta l'opposizione politica egiziana come un tradimento enorme svendersi all'America la mossa finale di questa liberalizzazione e politica fino a statunitense di Sadat sono questi accordi di Camp David quindi ci sono delle manifestazioni gigantesche e queste manifestazioni poi vengono appunto represse con delle campagne di arresti più o meno lunghe ma comunque appunto a tappeto direi e queste sono le nostre donne che vi presento stasera la prima è quella forse più famosa in occidente si chiama Nawala Sadawi e è l'unica in realtà che è stata arrestata una sola volta nel 1981 ma in realtà appunto ha vissuto molto l'esperienza detentiva come medico però è un'autrice cardine del canone femministe egiziano pioniera per la battaglia per della costruzione proprio di un'identità femminista perde il suo lavoro al ministero della sanità nel 1974 dopo aver pubblicato un libro famosissimo in Egitto la donna e il sesso in cui racconta anche delle proprie mutilazioni genitali quindi un libro immaginate negli anni 70 in Egitto che fu che fece uno scalpore incredibile censurato per moltissimi anni pubblica poi una donna al punto zero nel 1977 che ha la storia di una prostituta in carcere una storia che a lei viene ispirata dalla sua lavoro di medico all'interno delle carceri che viene spinta a compiere un omicidio dalle drammatiche condizioni appunto di repressione familiare e sociale nel 1981 viene arrestata lei stessa e l'esito di questo arresto è questo memoriale pubblicato nel 1983 Memorie dal carcere femminile è un testo in cui appunto la Nawala Sadawi enfatizza moltissimo la dimensione della collettività femminile è un testo appunto che è stato anche se vogliamo una pietra miliare nell'elaborazione del femminismo egiziano perché per la prima volta appunto si teorizza la possibilità di una lotta appunto comune fra le donne che parte proprio all'interno delle mura del carcere chiaramente è una visione della prigione molto idealizzata per tanti aspetti soprattutto una visione di vita comune tra donne per certi aspetti molto enfatizzata molto idealizzata ma che sicuramente appunto la Nawala Sadawi aveva in un certo senso esperito perlomeno questa è la lettura che ne dà e sicuramente appunto fa di questa esperienza del carcere appunto questo questo vessillo per per richiamare le donne una possibilità di vita attiva e in comune ovviamente il momento dell'arresto è vissuto come una sorta di morte le richiama io qui vi ho messo dei brani le richiama la morte della madre quindi questo scendere in questo carcere come proprio il seppellimento di un corpo però immediatamente dopo lei dice da quando aprì gli occhi il primo mattino in prigione capì dal movimento del corpo mentre mi alzavo stirando i muscoli della schiena che una soluzione definitiva si era già fissata nella mia mente che dovevo vivere in quel posto normalmente una decisione che mi sembrava una pazzia perché significava nell'ora della realtà la logica le mura e le porte di ferro e ancora io qui ho preso dei brani sparsi ovviamente quest'idea della vita comune della vita in comune tra le donne in prigione ho conosciuto contemporaneamente due aspetti contrastanti il culmine della tristezza e dell'allegria l'apice del dolore e del piacere le cose più belle e quelle più brutte in prigione ho ripercorso con la memoria tutta la mia infanzia ho iniziato a battere le mani a saltare di gioia appena sentivo il rumore del cucchiaino che girava lo zucchero nella tazza del tè il tè in carcere era come un misto di terra nero e paglia e lo zucchero era costituito da pezzettini scuri e pieni di formiche ma io lo sorseggiavo lentamente e il suo sapore in bocca era più dolce di qualsiasi tè avessi mai bevuto ancora ho vissuto una vita in gruppo fra donne e ragazze all'interno di questo carcere rappropriandomi della gioia dei tempi del liceo in prigione ridevamo ci arrabbiavamo litigavamo ma poi ci riappacificavamo ci entusiasmavamo e rattressavamo per la minima sciocchezza piangevamo ridevamo e finivamo per tornare a sorridere pur continuando a piangere quindi questo continuo sottolineare questo tema della vita in comune della vita fra donne della possibilità anche con un pizzico di nostalgia verso questa dimensione di vita femminile all'interno del carcere nonostante poi ovviamente tutte le musaccherate tutto questo memoriale si è segnato appunto dagli orrori da questo senso ovviamente di privazione della libertà privazione della libertà politica quindi come dire uno spazio un micro spazio di gioia e di possibilità di attivismo politico che ci si costruisce all'interno appunto della all'interno delle mura del carcere la seconda autrice che vi presento vado un po' velocino è Latifa Zayat che è un'altra importantissima figura del femminismo egiziano il suo memoriale del carcere è stato scritto più di recente nel 1992 si chiama carte private ed è in realtà più che un memoriale un caso quello di cui vi parlavo prima di autobiografia in cui le due esperienze di detenzione Latifa Zayat era una militante molto attiva era una militante comunista e femminista vive due arresti uno nel 48 durante le sommosse anticoloniali e poi nel 1921 dopo Camp David la descrizione che fa Latifa Zayat del carcere è come se le due esperienze carcerarie rappresentassero i due momenti di fulcro della sua vita l'attivismo politico della giovinezza e l'attivismo politico della maturità e gli dessero proprio modo di ricollegare di fare un disegno della sua vita c'è un punto qui non ve l'ho messo nella citazione ma dice entra nella prigione di Alkanatir questa prigione di cui vi dicevo a 58 anni certa che i frammenti della mia vita sarebbero finalmente andati al loro posto come perle infilate nello stesso filo e ancora nel corso della mia vita ho cambiato diverse case vivendoci per un giorno solo o per lunghi anni e per un periodo il carcere è stata la mia dimora da ogni abitazione in cui ho vissuto persino dalla prigione dalle case in cui mi rifugiavo che ero costretta a cambiare ogni notte sono uscita arricchita e allo stesso tempo in ciascun luogo ho lasciato le parti di quella creatura imperiale trasformazione che ero e sono e poi l'ultimo brano che vi leggo di lei che si ricollega secondo me molto bene a quello che raccontava anche la Nawala Sadawi dell'esperienza della vita femminile in carcere l'amicizia femminile la presenza delle altre donne posso io scrivere le mie esperienze di prigione senza ricordarmi di voi amiche mie e questo lo scrive questo brano in una scena in cui lei va a rivisitare il carcere dove è stata imprigionata voi che avete trasformato questa esperienza nella sua essenza che avete ritoccato di bianco il nero più profondo e lo avete trasformato in un tollerabile grigio sai cosa può fare quest'amore umano amica mia ha trasformato un edificio essecrabile pieno di ricordi amari nella caaba verso cui vado in pellegrinaggio infine le ultime due donne che vi presento vado un po' veloce così vi lascio cinque minuti se avete voglia di fare osservazioni sono secondo me le donne le testimonianze secondo me anche più complesse forse più affascinanti una è Safinaz Kazem autrice estremamente interessante quanto poco studiata anche lei nasce da una una militanza femminista e marxista negli anni 70 qui la vedete tra l'altro in questa foto con un famoso poeta egiziano Abnudi e il famoso poeta palestinese Mahmoud Darwish quindi era una donna assolutamente dentro tutti i circuiti intellettuali diciamo più più importanti del mondo arabo degli anni 70 sposa un poeta egiziano famosissimo vernacolare Ahmed Fuad Negm anche lui marxista con il marito viene arrestata nel 73 nel 75 quindi vive molto intensamente questa forma di attivismo dal punto di vista marxista e femminista poi a un momento pur mantenendosi profondamente critica al potere e critica anche alla militanza islamica della fratellanza musulmana si converte in maniera molto sentita sceglie di velarsi e sceglie di fare un percorso interiore di acquisizione della propria fede che la mantiene però su dei binari di forte opposizione politica è una figura veramente interessante veramente complessa e dopo l'arresto dell'81 anche lei scrive un saggio sul carcere che si chiama proprio sul carcere e sulla libertà quindi una riflessione sul carcere e sulla libertà e anche per lei il carcere è una una forte dimensione di possibilità appunto di di attivismo femminile ed è anche una una metafora della società egiziana nel suo complesso per me la prigione non è più la cella dei mendicanti piena di scabbi e pidocchi non è la cella delle punizioni né quella dell'isolamento piuttosto corrisponde a ogni tipo di oppressione tirannica e alla violazione dei diritti dei cittadini garantiti dalla costituzione poi ci sono tantissime riflessioni vi lascio immaginare un libro ricchissimo mi piaceva leggervi la conclusione perché appunto si poi si rivolge a un destinatario maschile non meglio definito e dice non conosci quanto sia profondo il valore della religione nella mia vita non sai che ogni mia passione il mio coraggio il mio amore la mia rivoluzione il mio ardore testimoniano della crescita dell'islam in me di quell'ammi onorato ponendolo dentro di me sia lode a Dio forse tu ne ridi e questo mi rattrista perché vuoi spiegare la mia religiosità come se fosse una mia nadeguatezza una fuga una regressione quindi la prigione è anche come uno spazio in cui la donna si riappropria della propria religiosità si riappropria dello spazio per riflettere sul proprio corpo sceglie anche di velarsi e infine a proposito di spazi di prigione di religiosità Zainab al-Gasali una delle più famose forse la più famosa esponente delle sorelle musulmane egiziane gruppo appunto femminile della fratellanza musulmana imprigionata per un periodo lunghissimo dal 65 al 71 e poi rimprigionata trasferita nella prigione di Al-Qanatir questa prigione di cui vi sto parlando è quella che ha vissuto l'imprigionamento più lungo e anche quella che ha subito poi maggiori torture fisiche durante l'imprigionamento e anche lei però sceglie di redigere un diario dal carcere un diario che vi lascio immaginare è diverso ovviamente dal diario delle femministe marxiste però anche lì il corpo è centrale un corpo torturato un corpo dilaniato e però un corpo appunto che sceglie di resistere ha delle reticenze dice a scrivere un'autobiografia però appunto i miei fratelli mi fecero considerare il dovere di testimoniare e descrive questo corpo dilaniato marchiato da piaghe ferite traccia di tortura dolore e tristezza però appunto c'è in lei questa questa esigenza testimoniale e c'è anche in questo caso io qui non vi ho messo i brani specifici però soprattutto alla fine l'incontro con una sorella lei vive il carcere in isolamento quindi chiaramente ha molto meno contatto con le altre detenute le guarda anche con un certo disprezzo all'inizio però poi le inizia a conoscere quindi c'è un dialogo un abbozzo se vogliamo di dialogo tra delle pertenenze politiche così diverse e alla fine c'è in lei anche quella paura che hanno anche molte altre donne di ritornare nella società e di lasciare appunto questa sorta di spazio di vita attiva appunto di vita comune di costruzione possibile di un discorso femminista e ho finito su questi testi e mi piaceva appunto portarvi queste testimonianze di donne perché secondo me ricostruiscono bene appunto questi sono tutti i testi tra l'altro importantissimi in Egitto soprattutto importanti per le donne quando dico appunto canone femminista questi sono veramente i testi le femministe che le donne egiziane hanno letto e leggono e appunto sono testi scritti all'interno delle carceri e testi profondamente in dialogo tra loro soprattutto in questo caso perché sono stati scritti in un certo senso condividendo anche lo stesso spazio carcerario e infine vi rubo gli ultimi due minuti per una postilla però che mi sembra doverosa perché appunto noi qui ci fermiamo agli anni 80 cosa è successo dopo dopo le rivoluzioni in Egitto molto è cambiato e poco è cambiato nel senso che è cambiato molto nel senso che molte più persone scrivono e questo è inevitabile perché internet ha democratizzato l'accesso alla scrittura e quindi chi vive l'esperienza della detenzione non deve passare più nemmeno per il canale magari illegale della printing press illegale fatta dal cugino sotto casa in ciclostilo distribuita tra i compagni ma basta fare un tweet o un facebook però in realtà tutti vanno anche in carcere ancora di più quindi ci troviamo davanti appunto a degli arresti ancora più frequenti ancora più a tappeto e ancora più lunghi e io qui vi voglio veramente rubare l'ultimo minuto per leggervi perché appunto non posso non farlo parlando di carcere in Egitto due parole di un prigioniero di oggi un attivista politico il cui libro è stato tradotto tra l'altro anche in italiano non siete ancora stati sconfitti lui si chiama Allah Abdel Fattah un oppositore al regime di Al-Sisi e e vi leggo un tweet che scrive dopo la morte del padre Ahmed Seyfel Islam che era un avvocato per i diritti umani un attivista politico scrive la prigione ha fatto crescere un mio sentimento di odio perché l'odio è ciò che sci lascia in eredità il carcere e ha ancora imprigionato la tua morte ha fatto crescere in me la morte del padre la voglia di perdonare perché il perdono è ciò che mi ha lasciato in eredità sono arrivata a odiare così tanto le prigioni e i tribunali papà che non li auguro nemmeno a coloro che ritengo responsabili della tua morte il carcere ha mai scoraggiato un criminale? c'è qualche prova definitiva della sua utilità? oppure si dà per scontato che sia così? tanto tempo fa parlavamo del valore della verità ricordo le tue parole e immagino l'esistenza in un mondo ideale in un mondo remoto ma possibile di tribunali che lavorano per arrivare alla verità tribunali che scoprono e spiegano il tipo di reato come il criminale l'abbia compiuto perché glielo abbiamo lasciato fare ma non riesco a vedere in alcun modo come le prigioni ci aiutino a impedire che accada di nuovo senza di te come farò a spiegare alla gente che possiamo sognare un mondo senza carceri? ci viene persino negato di segnare un mondo in cui vengano messi in carcere i criminali e non le vittime queste sono le parole di oggi quindi una storia assolutamente contemporanea e non posso non lasciarvi anche con il ricordo di Giulio anche sovittima delle carceri egiziane grazie grazie grazie